Cassola, attimi di paura questa mattina attorno alle 11 nel parcheggio del centro commerciale statale 47 di via Papa Giovanni Paolo II, dove un bambino di appena due anni è rimasto chiuso all'interno dell'auto della madre assieme alle chiavi della macchina. Proprio la donna ha lanciato l'allarme al 115. Sul posto, in pochi minuti, sono giunti i vigili del fuoco di Bassano che hanno recuperato le chiavi e liberato il piccolo, rimasto comunque tranquillo durante tutte le operazioni di apertura del mezzo. Grazie a tutti.